Nel Solon, i carmi conviviali, Pascoli parla di questa donna aderesso, di questa donna aderesso che entra nel convivio dove è sdraiato, ha meditazioni sulla sua caducità e sulla morte vicina Solone. C'è una strofa che forse è la più interessante per noi, perché Saffo a un certo momento dice, e chi voglia mi rivedere, tocchi queste corde, canti un mio canto e in quella tutte rose rimireranno gli occhi, Saffo la bella. Bene, è di questa Saffo, di questa Saffo che è a mezzo, a metà, tra la realtà storica e diciamo l'evocazione mitica, questa Saffo magica, di questa Saffo noi potremmo sempre, eternamente parlare, forse è quella che maggiormente apporta qualcosa allo spirito umano, allo spirito anche dei nostri giorni. Cioè chi dice che tutti i poemi, tutte le liriche, antiche, arcaiche, abbiano una funzione pragmatica, è probabilmente vero, è vero, ma quel che li fa risuonare nell'anima nostra non è quell'elemento storicamente e puntualmente definito che pure dobbiamo definire, è piuttosto quel riecheggiamento, quella suggestione che riesce a superare la dimensione spazio-temporale, che riesce ad attingere un orizzonte atemporale ed eterno. Sono frammenti, frammenti però di verità arcane, di verità arcane che producono e generano cosmica ebbrezza e riescono, quasi con un processo alchemico, a trasmutare, a trasformare in armonia tutto ciò di cui ci parlano. Saffo non è una poetessa che procede, diciamo, con un con una sequenza logica, sono immagini quelle che ci trasmette e dunque lei descrive ciò che vede, quello che è attorno a sé, per esempio la natura, che ha un ruolo fondamentale, i fiori, le erbe, i frutti, gli alberi, ma non sono qualcosa che determina uno sfondo, come in un quadro in cui ci sia una persona, una figura in primo piano e poi attorno ci sia tutto quello come vediamo qui in questa meravigliosa stanza della primavera della Villa Falconieri. No, sono proprio essi la manifestazione dell'animo, sono la manifestazione del suo stato, il riflesso dell'interiorità, non come in Omero, non come in Archiloco, non come nella maggior parte, e quasi sempre, nella maggior parte della poesia maschile. In Saffo questo mondo vegetale è continuamente il protagonista. Pollois garstefanois, ion, con molte corone di viole, cae brodon, crocchion tiumoi, e di rose, e di crochi. Questi fiori si intrecciano in Irlande e diventano parte integrante della figura di cui si sta parlando. Irlande intrecciate, profumi, aromi, calici. Noi sentiamo con tutti i sensi questa poesia. Non è una sensazione soltanto uditiva, ma quasi sinestetica. Noi siamo coinvolti in maniera determinante e trascinante nella poesia che ci porta con sé. E allora sentiamo, vediamo, percepiamo l'odore delle rose, delle salvie, delle mammole, del croco, del melo. La bella rugiada si espande, fioriscono le rose e il tenero cerfoglio. Nessuno potrà dimenticare quel frammento in cui si parla della mela che i raccoglitori in un primo momento si dice hanno trascurato. Ma poi la poetessa si corregge, dice no, non l'hanno trascurata, non l'hanno potuta raggiungere. È una bellezza irraggiungibile, una bellezza che sta oltre la possibilità di questi raccoglitori. È quella bellezza di quella verginità che in un frammento, Saffo dice, che conserverà per sempre. In un altro invece, in un dialogo quasi fra un'immaginaria ragazza e la verginità, ci dice dove vai, dove vai, verginità, vado via, vado via, per non tornare più. E questa verginità forse è anche quel fiore di cui parla un altro frammento, quel fiore purpureo calpestato dai pastori. Qui l'immagine del fiore, l'immagine dei pastori, ci dà senso della brutalità. Questo frammento che ha poi mosso gli animi di tanti poeti, già dei poeti latini, se pensi a Catullo nel Carme a Furio e a Aurelio. Oppure Virgilio, che nel descrivere la morte di Aurelio dice I fiori sono dappertutto, persino sulle rive dell'Archeronte. C'è un frammento in cui Saffo parla della morte e dice che giungerà sulle rive dell'Archeronte dove ci sono prati fioriti di loto, molli di rugiada. E questi prati sono illuminati spesso, nei frammenti di Saffo, dal pallore della luna. Ma anche la luna diventa una specie di fiore, un fiore più splendente, più appariscente in mezzo alle altre stelle. Ha imitato questa immagine da tantissimi successivamente. Questa luce filtra tra le foglie del melo ed è proprio la luce di una rosa. Quell'aggettivo Rododactylus che in eolico diventa Rododactylus e che veniva utilizzato da Omero per indicare l'aurora dalle dita di rosa, viene utilizzato da Saffo per indicare la luna, Rododactylus mena o Rododactylus selanna. La notte di Saffo a volte è una notte pacificatrice, una notte che porta la serenità e la tranquillità, ma altre volte scende terribile, non come consolatrice, come alcuni intendono anche nel famoso frammento in cui lei dice Ego de monaca teudo. Tutto è silenzioso, ma lei dorme sola. C'è questo senso della solitudine, c'è questo senso del silenzio tutto attorno che accentua e esaspera i sentimenti interiori. Noi non vediamo il vespero, noi non vediamo la notte, noi non vediamo soltanto l'ora crepuscolare e la luce che svanisce, ma sentiamo particolarmente questo riflesso all'interno della caverna dell'anima. E il riflesso è quello del ritorno, della nostalgia, del dolore del dover ritornare, di quel dolore che si fa sentire e che ci spinge quasi con impellenza a dover ritornare al luogo di provenienza, alle panienai. Il mare compare più raramente, perché il mare, come una forza oscura, quel mare così bello, onde nacque Venere e ha quell'isola feconda col suo primo sorriso, a dire a poi fosco, ma quel mare della Grecia ha tolto, ha sacco i suoi affetti, le ha strappato il fratello, forse anche alcune delle ragazze del suo tiaso. Certamente l'ha portata per le sue onde, come Ovidio nella sua relegazione, nell'esilio in Sicilia, probabilmente a Siracusa. E allora anche nel carne famoso, potinei nereides, onereidi, signore del male, che non sappiamo se sia un melos propenticon, cioè un canto per propiziare il viaggio del fratello Carasso, o sia un canto, diciamo, un canto pubblico di saluto, forse al ritorno da questo viaggio. Ma anche lì questo mare è visto come un qualche cosa di pauroso, di spaventoso. Si pregano le nereidi perché possano garantire un viaggio tranquillo al proprio fratello. I fratelli che sono comparsi in questo frustolo che è venuto fuori da un papiro che stava in una collezione privata e che da poco è stato reso pubblico e tradotto, bene, questi fratelli anche compaiono apertamente dove c'è di nuovo questo viaggio per mare e dove c'è quella idea di permitte di viscetera, dirà Orazio. Lascia agli dèi, lascia agli dèi tutto ciò che noi non possiamo governare. Che cosa non possiamo governare? Particolarmente gli eventi esterni. E questi eventi esterni compaiono poco nella poesia di Saffo. Qualcuno ha detto che Saffo ha avuto una vita povera d'eventi. Ma Saffo si è trovata in un periodo di guerre civili, sanguinose e vaceranti, non meno di alceo. Saffo ha forse perso il padre quando era bambina. Dice Ovidio, non aveva compiuto forse i sei anni o aveva appena compiuto i sei anni. Saffo ha probabilmente perso il marito quando la figlia era ancora una bambina. Forse, se sono vere le notizie biografiche. Saffo ha sicuramente patito l'esilio ed è dovuto andare in terra lontana. E ha patito anche probabilmente, se non la povertà, quella dura condizione dell'esule che non ha tutto ciò di cui disponeva in patria. Eppure tutto questo compare soltanto di striscio. E noi lo dobbiamo spesso intuire. Ma le cose semplici di questa eleganza che piace a Saffo e che lei ama più di ogni cosa sono contenute nel suo piccolo mondo, in quella sorta di temenos, in quel luogo sacro circondato da un confine imbalicabile, il suo tiaso. Questo collegio, che è più di un collegio, perché è anche un luogo dove si coltiva la religione dell'amore. e dove si iniziano le giovani ragazze e le si prepara a quella che sarà la loro vita futura. Dove, però, essendo un luogo così chiuso da mura, in cui si esclude il mondo esterno, in cui tutto è contenuto all'interno di questo piccolo orbis, bene, lì ogni cosa si esaspera, supera la normale misura, pur mantenendo la misura dell'arte, pur mantenendo la misura della musica, la misura della poesia, ma giunge all'eccesso, brucia e diventa una forza che sconvolge. La saffo ovidiana dice uror, brucio e brucio più delle fiamme dell'Etna, sconvolge, sgomenta, crea sbigottimento, un impeto emotivo, una vibrazione, uno slancio vitale, ardente e forte. E allora le emozioni, le passioni, le immagini, non sempre connesse fra di loro, ma che appaiono l'una dietro l'altra, allora sono simili ad uno stream of consciousness, un fiume in piena che ci investe. L'amore è acceso, l'amore non è soltanto una finzione letteraria, è un amore vero, un amore acceso, un amore intenso, fino allo spasimo. Da queste immagini non nasce una filosofia dell'amore come sarà in Platone, c'è soltanto un'immediata interiorizzazione che unisce la psiche con il soma, l'anima col corpo. E tutte le sensazioni che i cinque sensi producono diventano sensazioni interiori. Il tremore delle membra, lo sconvolgimento. La mente va subito al famoso brano che toccò le corde anche dell'Anonimo del Sublime. perché è realmente un eco di un'anima grande. Faine tai moicheno si sosteoisin. Il carme che fu poi imitato da Catullo, con il mi paresse deo bidetur. Lei è caiomene pofo, è bruciata dal desiderio, bruciata dalla branosia. L'amore possiede il cuore, lo doma, lo vince con la sua violenza, con la violenza della passione. Questo cuore è mainolest humos, è un cuore impazzito. L'amore è una mania, è un furor. E da lì scaturisce questo legame che Pasquale aveva ben visto del desiderio di morte, del senso di caducità, di nostalgia. Non tutto è serenante, in saffo, ma c'è molto anche di questo desiderio di poter arrivare alla fine. Amore e morte si uniscono insieme in maniera inestricabile. Grazie a tutti.